via. Sono mamma di una casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII. Con mio marito accogliamo bambini adulti che non hanno una famiglia o non possono vivere nella loro. Quello che sono oggi lo devo fortemente a mio papà e alla sua duplice eredità. Primo mi ha fatto vivere con mano quanto è importante una famiglia bella, accogliente, numerosa e secondo mi ha trasmesso un grande senso della giustizia. Mi ha sempre colpito il fatto che lui era un partigiano. Noi non andavamo sempre d'accordo perché eravamo uguali, volevamo sempre aver ragione e però spero di assomigliare a lui in questo aspetto che era un grande combattente. Ciao papà!